Cari professori che state guardando, avete mai chiesto a un vostro studente come stai? No, 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 non mi azzardo. Quanti ragazzi mollano la scuola? Quanti? Quanti ragazzi non ce la fanno più? Giustamente la seconda guerra mondiale è più difficile da studiare, giusto? La seconda guerra mondiale però rimane lì. Marco no. Marco non c'è più. Sai lo stress della scuola, casa, i problemi. Nessuno mai si è avvicinato, non ha mai avuto una persona... Nessuno gli ha mai chiesto come stai. Domani un altro Marco non ci sarà più. Basterebbe poco. Basterebbe una chiacchierata, due, tre... Però... No. No, è troppo.